Kasper Tengstet è un attaccante danese classe 2000, nuovo colpo di mercato dell'Ellas Verona di Paolo Zanetti. Anche quest'anno il direttore sportivo del Verona, Sean Sogliano, sta cercando di allestire una squadra competitiva per l'obiettivo salvezza, facendo leva sulle idee e sullo scouting. Prendere i giocatori giusti al prezzo giusto per calarli facilmente nel contesto tattico dell'allenatore ex Venezia. Tengstet è un attaccante prelevato in prestito dal Benfica, con un riscatto già fissato a 4 milioni di euro più bonus. Il danese ha iniziato la sua carriera calcistica nel Midtjylland, uno dei migliori vivai di Danimarca, con cui nella prima stagione con l'Under 17 è da subito segnato 15 reti. Arrivato nel 2018-19 alla formazione Under 19 ha dominato la stagione, con 27 reti tra campionato e youth league. Ha continuato la sua carriera segnando con continuità con la maia dell'Orsens prima e del Rosenborg poi, fino alla definitiva consacrazione col Benfica. Consacrazione che però, nell'ultimo anno e mezzo, ha tardato ad arrivare a Lisbona, dove il ragazzo ha trovato molte difficoltà nel trovare ciò che sa fare meglio, il gol. È fantastico vedere che vi piacciono i nostri contenuti e se volete, nel link in descrizione, potete trovare anche i nostri abbonamenti e tutto quello che abbiamo pensato per farvi diventare degli scout professionisti. Tengstead è un attaccante molto mobile, di grande qualità tecnica, ha una struttura fisica che gli permette di essere un giocatore fisico, ma che mantiene dinamismo e rapidità nei movimenti. È forte in trasmissione palla, lavora da regista offensivo su tutto il versante d'attacco e sa fare riferimento centrale come venire fuori, sia a destra che a sinistra, e svuotare l'area di rigore per associarsi coi compagni e venire ad attaccare dentro. È molto bello quando scambia nello stretto e va a puntare da fuori, rientrando sul destro e puntando la porta. È bravissimo ad attaccare la profondità con un tempo perfetto sui movimenti di uscita della difesa ed ha un'ottima capacità di attaccare gli spazi di mezzo per generare incomprensioni nei difensori. È forte in aria, sa segnare in quasi tutte le maniere, calciando con precisione, piazzati a fil di palo oppure attaccando con determinazione il primo palo. Quando riesce poi a presentarsi da solo col portiere sfruttando il suo timing, nell'attacco della profondità è bravissimo a saltarlo e depositarlo nella porta vuota. Quando viene a giocare fuori, sa trovare anche il tocco in profondità, l'assist per i compagni, l'ultimo palo da spingere in porta. Calcia bene col destro ed è bravo a lavorare anche in fase difensiva. Può migliorare col piede debole il sinistro, mentre non mi convince appieno di testa. Trovo che abbia un discreto tempo nello stacco, ma gli manchi un po' la forza dello stacco per imporsi a duello. Sotto pressione può crescere nelle scelte, ma pare che il Verona abbia pescato bene anche questa volta. Tankstrad potrebbe sorprendere. Io mi fermo qui e vi lascio al prossimo video.